Il cinema non è solo un mezzo di espressione artistica, una manifestazione culturale o semplicemente un veicolo di intrattenimento. Il cinema è anche un potente strumento che offre visibilità e promozione ad un territorio e nasce proprio con lo scopo di promuovere le eccellenze paesaggistiche regionali da suggerire come location per set cinematografici o da inserire in produzioni televisive il protocollo siglato da Veneto Film Commission Regione Veneto presentato a Lido in occasione della 78esima mostra del cinema di Venezia. Noi non vogliamo valorizzare delle destinazioni che sono già conosciute a livello internazionale, insomma voglio dire la gente viene già a girare i film gratis a Venezia, non serve che dietro ci sia la regione che faccia promozione da questo punto di vista. Noi invece dobbiamo far conoscere altri luoghi di questa regione che appunto magari sono meno noti ma non per questo meno belli e quindi incentivare queste produzioni a scoprire degli angoli di questo territorio e valorizzarli. Questa è un po' l'idea raccontando ovviamente anche delle storie. Il cinema è anche in grado di produrre migliaia di posti di lavoro, molti dei quali ad elevata professionalità, generando inoltre un indotto talmente esteso da risultare difficilmente calcolabile. La Veneto Film Commission rappresenta un riferimento per l'industria cinematografica e audiovisiva locale e più in generale per chi voglia investire su produzioni realizzate in Veneto. Noi abbiamo avuto rapporti con un centinaio di produzioni interessate a venire in Veneto, è chiaro che da questi rapporti dovremmo ottenere dei frutti soprattutto nel 2022 e nel 2023. Abbiamo il sito con tutte le location, tante produzioni che sono decise a venire qui in Veneto per motivi che ovviamente sono abbastanza scontati, cioè la bellezza del territorio, la varietà del territorio.